Ci sono casi dove il telefono prende pochissimi punti, eh? Quella. A casa mia! Solo qui! Qui prende, qui no. Qui la sento, direttore. Prende solo qui. 14 stanze. E prende solo qui. In questo ristorante prende solo qui. Pronto? Mi senti? Pronto? Pronto? Pronto! Pronto. Adesso mi senti? No. Pronto? Non prende niente. Pronto? Da me prendo ovunque, da te? Ma dai, sei nella cuccia del cane. In una casa Win3 chiami e ricevi sempre. Nasce Wi-Fi Calling. Da oggi lo smartphone prende dappertutto. Bello essere Win3.